Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Victim, che mi chiede di parlare del film del 2005 di Neil Marshall, scritto dallo stesso Neil Marshall, prodotto dallo stesso Neil Marshall in Inghilterra, ma fintamente abbiantato su Monti Appalaci Americani quando è girato tutto anch'esso in Inghilterra. Un film al femminile, un film particolarissimo, uno dei capolavori dell'oro degli ultimi 30 anni, un miglior film di Neil Marshall che era già partito con il bellissimo Dog Soldier, più di lupi mannari e anche virato in commedia veramente niente male, fatto un condolire, con questo The Dash, che poi seguirà Doomsday, Centurion e poi andrà a perdersi purtroppo negli ultimi film, quindi Neil Marshall dava il meglio di sé, girando un film claustrofobico, terribile, con degli effetti enormi, con questi mostri e creature sotterranei veramente paurose, veramente che lasciano in ansia, ma la cosa più paurosa del film in realtà è il comportamento dei personaggi e le loro, come affrontano appunto le difficoltà e le verità che verranno fuori appunto in questa storia. Parla appunto di solitamente di queste tre amiche che si ritrovano per fare degli sport estremi e tutto il resto. Però insomma tornano a casa la nostra protagonista insieme al marito e la figlia, incidente, muore il marito e la figlia. Un anno dopo Juno e Beth, per cercare di far superare il trauma alla nostra amica, dicono di se vuole andare a fare con loro un'escursione in delle grotte, si unisce a loro l'altra amica, Rebecca, che porta insieme Sam e la spericolata Holly. Quindi queste passano la serata a bebirre e tutto il resto, poi si infilano in queste grotte e non riescono più ad uscirne, sono bloccate e già lì il film sarebbe una bomba. Il problema è che all'interno di queste grotte sotterranee ci sono anche un gruppo di esseri che non sono mai evoluti e che non sono niente di sopravvano naturale, non hanno occhi e sono un'evoluzione diversa degli esseri umani e che appunto le caccerali cercherà di uccidere tutta una dopo l'altra. Quello che però fa ancora più paura è appunto il rapporto fra di loro, lo scoprire che quella faceva le corne con quell'altro, la mancanza di empatia e le presi di una alle spalle, tutto verrà fuori in questo gioco fra donne che iniziano a scannarsi l'una con l'altra, dove ciò che in realtà conta, anche questa volta è la bugia, il tenere nascosto una verità che poteva essere pericolosa ma che sicuramente non avrebbe mai portato ai danni che porterà poi in questo film, perché è un film veramente particolare, ripeto, splatterosissimo, violentissimo a livello di sangue, va benissimo, scupissimo, con una regia fantastica, veramente fantastica. Neil Marshall parte con quella osa sul rafting lì, con la barca che subito vola altissimo e ti mette subito di fronte che forse c'è qualcuno che sta già facendo le orne a qualcun altro. Poi passando con quella scena di botto iniziale, splatterosissimo in questo palo che taglia la testa del marito e fa vedere la puzza di sangue che esce dalla porta dietro della bambina, è già ghiacciante. E poi i rapporti insomma cominciano sempre più a distruggersi, più che la fase diventa critica e più che la fase diventa critica è più che il nostro Neil Marshall aumenta il ritmo con un montaggio di John Harris da paura, una fotografia meravigliosa. Di Sean McCardy, una serie di attrici una più brava dell'altra. Sean McDonnell, Natalie Mendoza, Alex Reid, Saxia Munder, Nora Jane Moon e Mianna Boring, un gruppo di amiche veramente meravigliose, la protagonista sarà carte naturalmente Shauna e per un film, ripeto, che fa una paura cane, uno di quei classici film che utilizza il sistema della paura per tirar fuori in realtà le paure di queste donne e dell'essere umano perché vengono scoperchiati i loro segreti per i tradimenti, per le bugie, un'altra volta ripeto, per il comportamento che una volta portato all'estremo una condizione di completa e assoluta paura e di completa e assoluta motivo di cercare di essere vivi, di completa e assoluta ricerca della libertà e della sopravvivenza, porta in realtà a galla tutto il male delle persone più che il bene e lì incominciano i conflitti interni che sono più pericolosi forse dei conflitti appunto con i mostri di più mi voglio dire perché questo è in capolavoro assoluto su tutto, ritmo totale, finisce che ne volete altri duecento, non guardate la versione americana perché è tutto tagliato a un finale edulcorato, guardate solo questo, il 2 è americano come produzione quindi parte con l'idea che è la nostra protagonista e quindi è tutto diverso, se volete dategli un'occhiata ma non è di Neil Marshall, non c'entra un cazzo, si guardicchia ma questo è un capolavoro uno di quei film che fa cacare addosso, uno di quei film che una volta tanto riescono a costruire la paura attraverso i sistemi grandissimi di Hitchcock, attraverso un sistema anche gotico, è un sistema in un certo senso postmoderno verso un orrore montato, girato e trasmesso allo spettatore in modo assoluto, capolavoro totale che parla del mondo, parla dell'amicizia, parla della morte, parla dell'amore e lo fa attraverso dei mostri devastanti che fanno una paura a cane, il link è qua sotto, donatevi sul patrio, vi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su youtube, seguitemi su facebook e su instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'italia, The Descent è un capolavoro, compratelo tutti, se non lo trovate fate in modo di trovarlo perché questa è veramente un'opera di quelli che meritano la visione e reiterate volte tutti gli amanti dell'horror devono vedere e rivedere.